E salve a tutti amici, sono sempre... Aiuto E salve a tutti amici, sono sempre Jagold E benvenuti in questo nuovo episodio di Project Zomboid Gente, io stavo lavorando qua nella nuova autorimessa Come vi avevo detto nello scorso episodio E ve l'avrei fatta trovare già arredata, sistemata e tutto Però c'è una tempessa della madonna E niente, ho pensato di iniziare a registrare subito Perché l'atmosfera è fantastica Che cosa stavo cercando di fare? Stavo portando qua alcuni materiali E stavo iniziando a fare tutta la parte di appunto Arredamento, tra virgolette, stoccaggio L'obiettivo adesso era finire con queste casse, cosa che ho fatto E iniziare a portarci tutti i vari materiali Almeno questo qua era l'obiettivo E penso che lo continuerò Dopodiché vediamo un attimo cosa fare Ok Dovrei aver fatto tutto Questo qua è un nuovo giorno È il 24 di marzo E sta nevicando di nuovo Non so come cazzo sia possibile Però buongiorno giorno Allora Vi faccio vedere un attimo come ho organizzato Ok? Perché sennò magari non ci capiamo Dunque, 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 dunque Mi avete dato anche tanti bei consigli Su come modificarla E alcuni di questi li ho presi davvero in considerazione Perché forse è effettivamente piccola per tutti i mezzi che dovremmo avere Anche se vi dirò che in questo momento a me sembra andare bene Perché guardate, questi qua sono i mezzi che abbiamo I rimorchi non ha senso metterli dentro Perché Andrebbero a occupare soltanto spazio E i rimorchi richiedono sempre e comunque manovre Quindi Per me non ha davvero senso metterli dentro E gli altri mezzi in questo momento ci stanno Cioè Chiaro, bisogna parcheggiarli bene Ma eccoci Questo è un po' buggato Spazio a me sembra essercene Poi chiaramente se mi rendo conto che più avanti spazio non ce n'è E allora sì, andremo a modificare E vi dovrò dar ragione Cioè che probabilmente era troppo piccolo Adesso li sistemo un attimo Eccoci qua Ecco, sapete cosa potrebbe far comodo? Portare qua dentro un minimo di stoccaggio di pezzi metallici Che ci servono per le riparazioni Comunque, come l'ho organizzato In queste casse ci sono i principali moduli Che vanno a modificare o comunque riparare tutti i nostri mezzi E mi rendo conto che questa qua con semplicemente quattro sedili L'abbiamo già riempita però Qua ci sono tutti i moduli interni Qua ci sono tutti gli strumenti Quindi clic, chiavi, varie Queste qua sono ancora vuote Qua c'è tutta l'elettronica Tutta l'elettronica C'è una batteria per ora Qua c'è tutta la meccanica Quindi freni, sospensioni Cos'altro potrebbe esserci Serbatoi, silenziatori Tutto qua Qua c'è tutto il vetro Parabrezza Lunotti E così via E qua sopra invece c'è tutta la parte di lamiera Quindi porte, cofani, bagagliai E così dicendo Qua abbiamo tutte le taniche di benzina Che avevo libere prima e disponibili E di qua abbiamo la porta Che deve essere, ecco, ancora costruita Questo magari lo faccio subito Cosa dobbiamo fare adesso? Perché comunque io la do bene o male per fatta Questa, questa autorimessa Cioè, non vedo perché dovrei mettermi ad aggiungere altre cose Per adesso Come vi dicevo Se effettivamente mi rendo conto che non va bene Allora la andiamo a modificare Comunque vi dicevo Quello che vorrei fare ora È andare a mettere giù ancora un po' di ghiaia da questa parte Per fare un parcheggio esterno Cosa molto semplice da fare Basta prendere di nuovo i sacchi E andare I sacchi dovrei averli qua Eccoli E poi vi spiego effettivamente Cos'è che Cos'è che andremmo a fare O meglio Cos'è che potremmo fare Nell'episodio di oggi Iniziamo a spargere però la ghiaia Raccolta tutta? Oh yes 17 sacchi di ghiaia Andiamo Più 15 vermi Così Per gradire Fatto Riempito tutto È stato molto più semplice del previsto E devo dire che l'effetto è anche più bello Molto molto bello Mi piace Ok C'è da togliere però tutta questa erbaccia Quindi via Un po' di manutenzione voglio dire Fatto anche qua Benissimo Molto molto bello Mi piace così Mi piace mi piace davvero tanto Se ci fosse la possibilità di trovare altro pavimento così Sarebbe bello contornarlo pure Vediamo un po' se dall'altra parte della strada magari c'è Però mi serve in quel caso Il Pieri di Porco Giusto? Se ricordo bene Sì andiamo a vedere Allora Tu vieni con me No Non si può Ah È questo sì È questo qua fuori no Dai Che Peccato Beh però scusate un attimo Io mi ricordo che alcune Piastrelle Potevano essere prese Chiaramente non erano queste Peccato Davvero un peccato Però Tipo questi piastrelloni qua Questi posso prenderli Esatto Allora evidentemente sono quelli da interni Va bene va bene Tappeto blu di lusso Sì mi piace Lo prendo grazie Ma ancora più bello Eh eh Le piastrelle bianche Stiamo rendendo la nostra La nostra base una reggia Ho rotto l'albero va bene Non ho rotto un altro E la madonna tutti li sta rompendo Allora Quanti ne ho presi Ovviamente cinque Allora Vediamo di fare adesso Il tutto qua Molto bello E curato Perché intanto Stiamo lavorando alla base Questo episodio Probabilmente sarà in parte In grossa parte Questo Quindi potremmo Effettivamente Concentrarci un po' Mi serve martello Non me le fa posare Non me le fa posare fuori Aspetta forse 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 so come fare Eccolo qua Funziona così Perfetto Non ci credo Ne mancherebbe solo una Vabbè fa niente Ne mancherebbero Tre Quindi no Non ce n'ho abbastanza Va bene Va bene Adesso vediamo Eccoci qua Perfetto Allora Hai solo un po' di fame Greg Stai buono Ma che belli Oddio Stona un po' Lo stacco di piastrella Così Però bello Dai Bell'effetto Bell'effetto Perfetto Adesso andiamo Facciamo un attimo Mangiare sto poveraccio Che mi sta morendo Perfetto L'autorimessa È fatta Tra virgolette È organizzata Potrei Controllare un attimo Effettivamente Come siamo messi Con l'anvi Perché è quello Che mi interessa Nelle condizioni E poi passare Alla seconda parte Con cui chiuderemo L'episodio Inizieremo Con cui Di fatto poi Chiuderemo L'episodio Che è La pulizia Degli ingorghi Perché si ragazzi Ho deciso Che Dato che Lavorerò Verso West Point Quello che andrò A fare Sarà pulire Gli ingorghi Oppure Oppure E questo magari Ditemelo voi Nei commenti Puliamo L'ingorgo Però Tipo qua A crossroads Per andare A March Ridge Perché vi ricordo Che a March Ridge Oltre al fatto Che la vorrei Esplorare C'è anche Il quad Da prendere Però Penso che Sia più interessante Andare verso West Point Dove abbiamo trovato Di fatto Mezzi vari Ma poi c'è Anche tanto Da esplorare E ovviamente Vorrei impiegare L'M60 Per falciare Gli zombie Lo sapete Che era per quello Quindi questo qua Un feedback Che vi chiedo Di lasciarmi Adesso Ci spostiamo Un attimo A manutenzione Dei mezzi Poi preparo Tutto per la spedizione Ed eventualmente Andiamo Questo Questo se non sbaglio È danneggiato È danneggiato Soltanto a livello Di Ecco Cofano Parabrezzo Eh purtroppo Parabrezzo Ha messo male Fari si cambiano Il motore È così Questa potrebbe essere Una macchina sacrificale Quindi magari Per andare a Come si chiama A March Ridge Potremmo utilizzare Effettivamente questa Ma quello che davvero Mi preoccupa È L'Anvie Perché l'Anvie Ha preso Un po' di colpi Sì Non era questo Quello che volevo fare Ma questo Ecco qua Spostiamolo un attimo Così posso Darci un occhio Ohi Allora Sedile posteriore Sinistro Destro Quello va bene Parabrezzo È messo male Cofano Va bene Cofano Il bagagliaio Da sistemare Portapacchi Il bagagliaio Si possono riparare Ma vanno bene In realtà Ah mi sapeggio Il motore è messo bene Freno anteriore Sinistro È quello che è Le sospensioni Vanno abbastanza Però In realtà Non è male Eh Le porte Le porte Cazzo Le porte Beh però Le porte le posso smontare E sistemare Sì E il parabrezza Eh Parabrezza Eh Io sono certo Che su un po' Di lamiere Nostro adesivo Ne ho Quindi va bene Anzi Magari ce l'ho Anche già qua Andiamo No Proviamo intanto A portare giù Tutta questa roba qua Che è Una pessima idea Ve lo dico Perché me li sto giocando Tutti malissimo Così Però è già qualcosa Se dobbiamo fare Delle riparazioni Bisturi Non ne ho E la cosa Mi sembra strana Perché mi ricordavo Di averlo preso Uno Ma evidentemente Mi sto sbagliando Ma nessun problema Basta andare In Che ne so Anche qua fuori C'è Aiuto Come si chiama C'era una clinica Si può andare lì volendo E tutta questa roba qua Pezzi di ricambio Roba da sistemare La possiamo mettere qua Qua nel mezzo Eccola Make Windshield armor Si può fare anche Front door armor Anche per le Per le porte laterali Ma la faccio Ma la faccio subito Ma è bellissimo Ma subito Subito Dai E Fammi vedere Non penso Che si veda Vediamo un po' Mi sa che non si vede Vabbè Fa niente Allora Sistemo Le cose qua dentro Quindi torcia Quindi torcia al propano E Maschera E torcia al propano Perché queste qua Fanno parte del nostro kit Ed è giusto che rimanga così Mi porto anche queste Sempre nel kit E le viti Fermarci lungo la strada Per cercarne un po' Ma va bene Benissimo 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 Allora Io direi anche Che potrei pensare Potrei pensare di portarmi Un'arma da fuoco Un bel fucile a pompa Perché adesso li posso fare anche silenziati Fatemi un modo controllare subito Quindi mirino c'è il dot Calcio c'è il laser sight Canna suppressor Fantastico Vediamo se c'è una sling Eccolo qua One point sling Oh no Peccato Perfetto ragazzi Direi che ci siamo Vediamo un po' Se abbiamo altre torce al propano Teoricamente dovrei averne Però non vorrei utilizzare C'è un'altra 8 Direi che ne posso prendere Almeno altre 2 Ah per prima cosa Vado a controllare Per i bisturi Che teoricamente Dovrebbe essere qua vicino Greg c'ha già fame Allora Buongiorno Signor medical Signor courtman Signor bagno Un bisturi Ce l'abbiamo un bisturi Guanti chirurgici Niente bisturi Ma secondo me c'è E invece non c'è Va bene Allora per cercare Per cercare Il gas Le bombole di gas Di propano Devo guardare Queste grandi case qua Perché sono tutte quelle Che hanno il barbecue Senza che vado Troppo lontano Nemmeno Vai Vi ricordo che già qua Siamo fuori Dalla nostra safe zone Quindi potrebbero esserci Zomboni In realtà non penso Perché dovrei aver Coperto tutto Cazzo Perché qua c'è Della gente che ancora Questi non sono zombie Questo è lore Ma sti poracci manco Ce l'avevo nel barbecue Mamma mia Tentiamo di andare Un po' più lontani Qualcuno qua C'ha un barbecue C'avete mica Un barbecue No Niente barbecue Di quelli a gas però Non quelli da poracci Mi sono appena reso conto Che non ho reinstallato Le finestre Bravo me E se qualcuno ti mozzica Finisce la run Ecco cosa succede Sì diciamo che in realtà Invece che partire direttamente Per fare la pulizia Degli ingorghi Cerco il gas Che eventualmente Mi servirà per il prossimo episodio Per andare a pulire Gli ingorghi Bravo Scemo Sei riuscito a prenderla Stando fermo Praticamente Fermo qua la macchina Perché non sapendo Com'è la situazione Più avanti Voglio evitare di rischiare Questi qua il barbecue L'hanno preso molto seriamente L'hanno bruciato direttamente Tutta la casa Barbecue No Intrigante questa cosa No aspetta un attimo No aspetta un attimo No aspetta un attimo Scusa Cioè tu mi stai dicendo Che qua a fianco C'avevo la stufa antica Cioè Cioè Aspetta un po' Aspetta aspetta All the fuck up All the fuck up Faccia la stufa antica Ragazzi La stufa antica Quella che mi serviva No che poi alla fine ho trovato Poi alla fine ho trovato Per Per Rosewood Una bella sorpresa Una bella sorpresa Vista la Zona Evito di fare Il salto Della quaglia Dall'altra parte Della proprietà Perché non so Quanti zombie Possano esserci Però buono Lei da dove arriva? Mi ignorasse fortissimo Dico no Devo andare a fare la spesa Vattene Vabbè ne ripartiamo Ah Questo qua è un altro ingorgo Che va tolto Questo lo togliamo subito Però non è una zona altolocata È questa qua Ve lo dico Non è per niente Una zona altolocata Quindi Mi sa che perderemo Più tempo che altro Nel cercare Dei barbecue qua Bah Tentare non watch Magari ce l'hanno Eh Alla giù c'è un po' di gente Vabbè Ma se M'han seguito in Cinque Dai Porca puttana Wow Non sapevo Che fosse automatico Ma che botte Tir Ma che stiamo scherzando Allora Tempo di prendere Maschera da saldatore E una torcia al propano Perché vanno smantellate Queste qua Dismantle vehicle Vai Questo è quello che vi dico Abbiamo appena finito Un'altra torcia al propano Questa Ecco Per evitare Davvero Di sprecare tante cose Facciamo una cosa Una Va bene La tolgo Ma l'altra La sposto Perché se no Finisco il propano Tempo che nemmeno L'ho trovato Questa qua La traino Come tutte le cose Ma guardate Giusto in tempo Va bene Allora facciamo una cosa Io faccio un giro Al volo Da ste parti Per vedere Se può esserci Un barbecue Da qualche parte Perché se no Ho paura che rischiamo Davvero tanto Eccolo lì uno Dove siamo Dovrei segnarmelo Sì poi Adesso rientro Subito in base E so che lì C'è una bombola al propano Me lo segno Per bene Mi sto viaggiando Con la porta aperta In tutto questo Ok Eccomi rientrato Rientro anche per una questione Di orario Perché sono 19 e 20 Paura che stando fuori Ancora un po' Rischieremo di rimanere fuori Di notte Inoltre c'ho la roba Da sistemare Sia la mappa Che effettivamente Lut E organizzare Eventualmente Per la prossima Per la prossima Spedizione Ecco qua Perfetto Rientrati in base Allora Prima cosa da fare Mi sistemo un attimo La mappa Scrivendo qua Qua è forno Forno antico E qua invece Propano Anche questa Rossa Perfetto Ora In questa zona qua Devo effettivamente Ancora controllare tutto E potrebbe essere Una cosa da fare Anche perché il propano Quando lo finiamo Abbiamo finito Di distruggere Veicoli E smantellarli Quindi Eventualmente Per la prossima Spedizione L'ingorgo Una parte Sì magari Lo dobbiamo smantellare Ma una parte Lo possiamo mettere Ai lati Per evitare A me serve Che sia libera La strada Che poi Smantello i veicoli Per farmi anche Le risorse Quello è un più E non vorrei Dover dare Tutto il propano Che ho Per quella Missione Lì Non mi pare Proprio il caso Comunque Qua adesso C'ho un po' Di roba Da sistemare Tra loot Vari e risorse E penso Che una parte Rimarrà anche qua Perché c'è La miera Metallo Di scarto Cose che ci servono Per le riparazioni E per il prossimo episodio Vorrei sentire Anche il vostro feedback Per capire Se devo dare La priorità A west point Secondo me Cosa da fare Oppure A march ridge Io darei La priorità A west point Perché mi sembra Una città Un po' Più Un po' Meglio organizzata Se dobbiamo Luttarla Ok Perché march ridge È davvero Tanto Impacchettata Tanto impaccata Ok Mentre west point Ci arrivo lì Con la m60 Mi mettono in un incrocio Pulisco E poi mi faccio Tutti i negozi E potrebbe essere il caso Dato che ci siamo stati Solo una volta Di cercare Magari una zona Papabile Per fare una safe house Perché west point A differenza di Rosewood Che è qua E non sa Cacca di pezza Nessuno Perché giustamente Non c'è un cazzo Da fare A rosewood West point È di strada Per Louisville E avere una safe house Lì potrebbe essere Qualcosa di davvero Interessante Comunque ragazzi In caso non si fosse capito Io termino qua Vi ringrazio tutti Tantissimo Per avermi seguito Vi dovete lasciare Un bel mi piace Un commento Dicendomi cosa ne pensate L'episodio di oggi Che è stato un po' strano È stato un po' strano Perché Sono partito con L'arredamento Poi sono passato Alla riparazione Poi un accenno Di esplorazione Ma alla fine Era proprio una questione Di organizzazione interna Perché ahimè Ci sono anche queste cose Da fare E sono sorpresissimo Del fucile a pompa Perché è davvero bello E mi sembra molto letale E insieme all'M60 Non vedo l'ora Di provarlo Su una folla di zombie Infatti penso che Quando andremo Con l'AMB Verso Verso West point Cioè avrò Nel portapacchi Munizioni Armi Proviste Mediche Per sopravvivere Cose varie Quindi cibo Acqua Cioè saremmo davvero La spedizione Dalla morte Comunque aiutarmi Il quale Vi ringrazio ancora Tutti tantissimo Per avermi seguito Io sono Gold E noi ci vediamo Con i prossimi video Bye bye